buonasera a tutti sono luigi onaral cose preferite bentorni a seconda con battle versione global edge up con l'analisi dei due pg secondari delle baci di gohan e piccolo così facendo dovrei riuscire per domenica a darvi l'analisi anche degli esa di gogetti di broli partiamo con il migliore di questi due personaggi ovvero baby pan kid pan come volete chiamarla adorable pan ci sono mille euro body per chiamarli adorabili del film sia in giapponese che in italiano soprattutto in giapponese comunque il pg ha 9730 hp 11.331 attacco e 7244 di difesa leader bond on parent and side tre chi è 130 per cento quindi può diventare molto interessante giocare la sub leader nel battlefield nel caso abbiate broli come nemico finale tech scusate passiva due chi attacco e difesa 150 per cento i super hero hanno un chi e 30 per cento attacco e difesa aggiuntiva più un ulteriore 20 per cento attacco di difesa e un chi ha il super hero che sono anche bond of parent and side o senpai notice me quindi non non baffa purtroppo e questo è uno dei suoi è probabilmente uno dei suoi principali difetti le categorie secondarie le baffa unicamente se c'è categoria iniziale super hero questo come vedremo successivamente nella lista dei pg che linkano con lei riduce di un botto i pg che realmente linkano in quanto tutti quei pg che hanno cinque link con lei ma non rientrano in super hero non serve che ci giochi vicino detta come va detta e il pg che principalmente prende questo piccolo problema è la nostra carissima pan tech non penso sbagliare che non è super hero no in quanto lei sarebbe un ottima 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 supporter di pantec tra i pg che hanno più link con lei ma non ha il minimo senso di giocarcelo accanto in quanto ci sono di certo pg più efficienti accanto a lei il che è un po un peccato ma ci sta c'è da dire che invece questo la rende un'ottima unit da giocare accanto a personaggi come go on ultimate per cercare di ovviare al problema di chi come potete vedere infatti lo inserita come pg proprio in con lui e si possono interscambiare se il nemico non ha nulla leva può essere giocata anche con le te prime in quanto abbiamo medie chance di evadere gli attacchi quindi abbiamo un 30 per cento di evasione a cui viene aggiunto un ulteriore 30 per cento quando c'è contro un solo nemico e che con un ipotetico 20 per cento di evasione d'ability anche se consiglio buildarla critico dato che come vedremo anche un addition del compolato arriva un ipotetico 72 per cento di evasione che ragazzi non fa fatto schifo come se non bastasse al 30 per cento al lancio un attacco al 100 per cento con 30 per cento di essere una special con 7 contro 2 più nemici i suoi attacchi hanno un buon 30 per cento di stun quindi in road è ottima e abbiamo un ulteriore 30 per cento di critico e 100 per cento attacco e difesa per quattro turni dopo aver evaso un attacco questo la rende nel caso vogliate utilizzarla anche per far danni quasi obbligatorio a giocarlo in posizione 1 subire alcuni attacchi evaderli e poi riuscire a tancare e far decisamente più danni giocati in seconda posizione per quel turno non farà un gran che ma successivamente all'evasione degli attacchi potrà essere più che interessante link all in the feminist and lineage in fighter battlefield diva more than miss the eye innocent fierce battle categorie hybrid movie goku family use bond of master and disciple bond of part in the inside warrior rise on earth e super heroes il pc davvero buono ho avuto la fortuna di trovarla e la potete trovare anche nello showcase effettuato contro selmax nella perfect run funziona bene davvero buona non fosse stata int e quindi avesse avuto quel 60 per cento ipotetico di evasione con la possibilità di massimizzare un alto tradizio nel critico secondo me sarebbe stato il massimo ma forse un pochino troppo barata principali problemi come vi ho detto il fatto che buffer unicamente per la categoria ma ci può stare e soprattutto che debba evadere per dare il massimo raggiungendo valori comunque carini raggiunge quasi 3 milioni di ability free quindi schifo non fa detto questo ditemi voi cosa ne pensate se l'avete provata e noi ci vediamo più tardi con l'analisi di gothane tranks alla prossima